benvenuti in kiwi bella a tutti ragazzi shakari benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti benvenuti a questo nuovissimo video oggi ragazzi come avete già letto dal titolo andiamo a reaccionare soprattutto voi a votare qual è il cosplay più bello migliore che abbiamo visto in questo video che andremo a vedere su tiktok i cosplayer che ci sono su tiktok e decreteremo il più bello detto questo mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella mettete like commentate e fate tutte cose che dovete fare sempre dai dai dicevamo detto questo andrò a reaccionare quindi andremo soprattutto voi nei commenti a votare il cosplay migliore e detto ciò mi riferì prendo giusto lo spunto al volo così che io sono una persona normalissima come tanti e nei video che faccio quando do i voti esprimo una mia semplice opinione così come la esprimete voi quando andate in fiere guardate il cosplay dicevo che bello quello non è che mi piace tanto quindi anche voi esprimete sotto sotto una vostra opinione quindi è inutile che faccio tanto il filosofo che non servono un cazzo va bene ragazzi quindi ognuno esprime le proprie opinioni scialla raga scialla godetevi il video godetevi questi cosplay che di problemi già ce ne stanno tanti più vi torno un bucazzo con queste cose qua va bene ragazzi quindi godetevi la raga e scialla raga divertitevi non si pesante pesante andiamo a vedere il cosplay va allora apriamo tiktok e vediamo cosa mi esce per primo vediamo cosa mi esce per primo alziamo che è insedente niente eh e credo sia di 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 non so cosa sia ma andiamo avanti bello credo sia l'alastor versione umana può essere alastor no no non è è alastor o non è alastor raga fatemelo sapere nei commenti se è alastor o no perché e stolas quindi credo sia e non lo so raga fatemelo sapere nei commenti però tanta roba complimenti e questo lo teniamo già in considerazione andiamo avanti niente loro invece devo dire che si muovono bene devo dire che si muovono bene e ok bravi 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 vi meritate il like dimmi che è un transition brava meno male ecco ecco un complimento che questo è di questo è di Evangelion Evangelion re 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 anami perché ho letto sotto ah 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 andiamo avanti brava 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 complimenti 999 per te loro sono abbastanza inquietanti posso dirlo? eeeh sono abbastanza inquietanti e vabbè andiamo avanti eeeh brava beh si ok bravi bravi andiamo avanti questo è tutto che ha fatto ma è me questo questo transition mi piace molto complimenti 8 8 andiamo avanti questo Alastor mi piace Alastor rivisita è un Alastor rivisitato ma mi piace ti sei meritato un like brava 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 tu invece mo sta canzone ma sta sapo nel cervello di Genshin Impact credo sia di Genshin Impact credo ancora ancora resisto nei cosplay di Genshin Impact like andiamo avanti piacere 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 ah qua questo è il video piacere piacere eeeh non forse sono troppo indietro io raga questi sono di non di che cazzo di di Jujitsu Kaisen credo sia no di Jujitsu Kaisen belle ste belle ste Wings brave belle mi piace molto mi piace molto raga secondo me l'Honor 10 so meritano che dite che dite ultimi tre video raga ultimi tre video andiamo a vedere che c'è sta questo è un altro Alastor con Lucifero bello Lucifero fatto molto bene posso dirlo fatto molto bene secondo me abbiamo la coppia vincitrice di questa puntata posso dirlo like e complimenti andrà indietro forse se vincono loro gli lasciamo un commento tu sei chi sei tu andiamo avanti ultimo video ultimo cosplay questo l'abbiamo già vista prima l'abbiamo già vista prima like non sto capendo un cazzo e like così sulla fiducia ma hanno vinto raga hanno vinto hanno vinto lo hanno vinto loro raga non c'è cosa hanno vinto loro scriviamo l'icco schiam scriviamo complimenti oh siete da dieci avete vinto la puntata con mettiamoli uno smile oh per do star smile per fuoco ti ha uno e due fuochi vai avete vinto la puntata complimenti se mi state guardando iscrivetevi al canale va bene ragazzi e quindi la giornata finisce così con i cosplay con questi qua di alastor e lucifero alastor e lucifero quindi ragazzi avete visto questi cosplay mi raccomando fatemi sapere nei commenti chi è il vostro cosplay preferito noi ci vediamo ragazzi alla prossima puntata al prossimo video shakari a Grazie a tutti